Buongiorno, mi chiamo Christopher Pecorraro, sono un americano ma vivo qui in Italia da molti anni, quindi ho l'accento, e dovete perdonarmi. Oggi parliamo del nuovo Yoga 910. Dico nuovo perché è in Italia solo da fine decembre, mentre in altri paesi come gli Stati Uniti è disponibile da fine ottobre. Allora, prima di tutto è alluminio, quindi un pezzo solido dietro, davanti, la tastiera non è un pezzo unico, poi c'è il Trackpad, non c'è la palina per chi è un appassionato di Thinkpad, c'è il lettore dell'impronta digitale, e un'altra cosa interessante è che c'è il tasto Control sull'estrema sinistra, non come la linea Thinkpad che è il function prima. Dunque la cosa bella è questa, che è una specie di ceniera modulata usando l'idea dell'orloggio, quindi ha qualche migliaia di punti di flessione che permetta, che permette questo portatile ad essere usato in modo diciamo tradizionale così, oppure modalità tenda così, oppure come un tablet, oppure diciamo un utilizzo di fantasia, insomma, quindi riesce a stare senza troppo movimento, posizionato in quasi asi posizione, c'è una piccolissima quantità di flessione. L'altra cosa importante è che qua ecco ci sono le porte USB tipo C, e sono porte piccoline che saranno il futuro dell'idea del porto USB, quindi questa andrà a sostituire il vecchio tipo A, e quindi per esempio usare questo, e questo è per esempio, per caricarlo, il caricatore si attacca qui, quindi non c'è più una connessione proprietario, c'è soltanto uno simile, quindi tutte le connessioni nel futuro utilizzerà quello. Nelle nuove MacBook di Apple, per esempio, c'è soltanto uno, è quello che si usa per caricare, quindi se io voglio poi collegare il nostro iPhone, bisogna avere un adattore, quindi Lenovo qui almeno adatto due, e dall'altra parte c'è, fortunatamente, una porta tipo USB tipo A, quindi per esempio questo è il portatile di mia moglie, è sempre una vecchia mouse, non dico un vecchio, ma dico... e questo è facilmente qui il dongle per far funzionare sto mouse. quello che c'è disponibile in Italia è un processore i7 penso 7500U, quindi ultra low power, quindi quando appunto per risparmiare la batteria, va in modalità risparmio energia, rallentando un pochettino la velocità del processore, però con l'atto positivo che allunga la batteria. ha 16 GB di RAM, quindi molto molto sufficiente per quanto riguarda l'utilizzo sia quotidiano sia anche cose belle pesante. è un disco di stato solido di 512, quindi diciamo una configurazione estremamente abbondante, cioè molto fornita, no? e io dico lo schermo è 4K, è un pochettino esagerato lo schermo di 4K, però direi che è bellissimo. quando è acceso anche di lato, da molto lontano, sembra che è un pezzo di carta, per dire. ovviamente Windows 10 quando lo compri non c'è molto schifezza, c'è un po' di software di Lenovo, ma nulla che non può essere facilmente toto. diciamo che c'è un bezel molto sottile, questo è molto importante perché è ovvio che il futuro, no? lo schermo dei cornici all'intorno al monitor, no? devono essere molto sottili. quindi facendo ciò, adesso si riesce ad infilare uno schermo di 14 pollici, praticamente nello spazio che prima occupava un schermo di 13 pollici. giustamente mia moglie mi diceva che valeva un portatile molto piccolo, perché veniva dal 12,5 pollici. però, dico, con un piccolo 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 sacrificio di spazio, perché non è per nulla ingombrante, poi pesa circa un chilo. hai uno schermo di 14 pollici che comunque prima, dico, era di fascia media. anzi, Lenovo è una delle poche società che creano un monitor di 14 pollici, perché di solito è o 13 come Dell XPS, sempre con i cornici sottili, oppure 15 pollici. ecco, io ho trovato un sconto, quindi ho pagato, non lo so, 1200, 1300, diciamo che per un portatile che costa all'intorno a 1000 euro è molto bello. sicuramente non è scarso, si accende il ventilatore una volta ogni tanto, però, dico, avendo un processore i7 con il poco spazio che c'è disponibile, non è molto brutto. sicuramente lo schermo di 4K, diciamo, mangia un po' di batteria, un po' di più di quanto avremmo valuto, però, diciamo, è l'unico modello che c'è disponibile in Italia, quindi cosa possiamo fare. però sicuramente, dico, di lato, cioè, è bellissimo come cosa. diciamo, è molto resistente. ora andremo a comprare, appunto, il Lenovo Yoga Mouse per non occupare una porta del portatile e vediamo come va nel futuro. però io direi che sono, appunto, abbastanza soddisfatto con l'acquisto che abbiamo fatto. e sicuramente i nuovi portatili che stanno uscendo, che non hanno cornici sottili, sembreranno, appunto, vecchio, brutto, per dire. quindi, diciamo, dovremmo scommettere con questi piccoli, nel futuro, con questi piccoli cornici sottili. vi ringrazio.